Una seconda sentenza del TAR mette fine alla querel tra il Comune di Firenze e Italia Nostra, dando così il via libera ai tanti cantieri fermi in città. Oggi infatti il TAR della Toscana ha confermato per la seconda volta che la variante normativa al regolamento urbanistico è una norma che tutela il patrimonio storico architettonico della città, respingendo così il ricorso di Italia Nostra, come già avvenuto con l'ordinanza del 21 febbraio 2019. Dopo lo sblocco dei cantieri fuori dal centro, arrivato a luglio scorso, anche a seguito dell'impegno del Comune per la riperimetrazione della domanda di Italia Nostra al solo centro storico, oggi arriva la svolta definitiva. La pronuncia sblocca i lavori anche in centro storico. È un giorno importante per tutta la città, hanno detto il sindaco Dario Nardella e l'assessore all'urbanistica Cecilia Del Re e per i tanti cittadini e lavoratori che aspettavano una svolta dopo essersi visti bloccare i lavori per effetto del ricorso di Italia Nostra e della relativa ordinanza del Consiglio di Stato. Il Tar Toscana per la seconda volta ha confermato il valore di tutela delle norme che abbiamo introdotto con la variante. Non c'è alcun rischio per il patrimonio storico architettonico della città. Abbiamo approvato uno strumento che mantiene intatta, anzi aumenta, la tutela del patrimonio edilizio di Firenze rendendo più certe e chiare le norme per cittadini e operatori. Siamo molto soddisfatti.